Dal primo libro dei Maccabei In quei giorni uscì una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scelerati, che persuasero molti dicendo «Andiamo e facciamo leanza con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali». Parve buono ai loro occhi questo ragionamento. Quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginasio a Gerusalemme, secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male. Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Nell'anno 145, il 15 di Chisleo, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'Alleanza e se qualcuno obbediva alla legge la sentenza del re lo condannava a morte. Tuttavia molti, in Israele, si fecero forze e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza e per questo appunto morirono. Grandissima fu l'ira sopra Israele e non di non contaminarsi con quei cibi Dammi vita, Signore e osserverò la Tua parola. Mi hai invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la Tua legge. I laci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la Tua legge. Dammi vita, Signore e osserverò la Tua parola. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i Tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male. Sono lontani dalla Tua legge. Dammi vita, Signore e osserverò la Tua parola. Lontana dai malvagi è la salvezza perché essi non ricercano i Tuoi decreti. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo perché non osservano la Tua promessa. Dammi vita, Signore e osserverò la Tua parola. Dal Vangelo secondo Luca Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono Passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò dicendo «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose «Signore, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato!» Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede l'ode a Dio.